mi chiamo silvio vengo da milano e lavoro in banca cassiere non proprio ragioniere faccio un po di tutto la banca è mia e sono venuto perché come hai detto me l'ha ordinato lo psicanalista e perché questo se permette non mi puoi dare del tuo anzi ci dobbiamo dare del tuo sono cazzi miei a suo punto era meglio che mi davi del lei grazie a tutti